Buonasera a tutti, benvenuti al circolo ufficiale, io sono il Presidente, sono il Capitano Invercello genero Carola e anche quest'anno, come l'anno scorso e in passato, abbiamo ospitato questa rassegna che è di sicuro interesse ed è anche di prestigio, per tanto è con piacere che vi accogliamo qui stasera e vi invitiamo ad ascoltare anche questa interessante presentazione. Grazie. Allora, buonasera, benvenuti a questa dodicesima edizione di Strane Coppie, ogni anno riusciamo come dire avventurosamente e faticosamente a farla ripartire, sono molto lieta di avervi qui con noi, ringraziamo il Comandante Carola, il circolo ufficiale per l'ospitalità, come sempre affettosissima e gentile, benvenuti a tutti quanti. Dunque, una rapidissima presentazione della manifestazione, ma soprattutto una presentazione dei nostri ospiti. Strane Coppie quest'anno, per chi ci segue da sempre, per chi ci conosce, avrete visto ha un nuovo tema, un tema che ha a che fare forse anche molto con il nostro presente, con le ombre che attraversano le nostre vite e che spesso le tagliano in maniera orizzontale, spaventosa, le ombre del clima, le ombre dell'economia, le ombre delle epidemie, della salute. Ma la nostra intenzione, in qualche modo, con questa rassegna è di mostrare invece le ombre che la letteratura da sempre frequenta. Shadows, quindi il nostro tema di quest'anno, racconta in qualche modo le ombre profonde, le ombre verticali che la letteratura ha sempre narrato, le ombre delle vite degli autori di cui stasera e nei prossimi incontri racconteremo, ma anche le ombre dei loro antenati, le influenze, i maestri, gli autori che li hanno in qualche modo consacrati o cambiati, quelli che a nostra volta sono diventati, come dire, riferimenti, i congiungimenti, le strane coppie da sempre a questa vocazione di mostrare e di fare incontrare grandi classici della letteratura di ogni tempo e di ogni luogo, di modo che in qualche modo un tema, una risonanza, un collegamento costruisca per noi un nuovo tipo di mappa, un portolano, una guida all'interno della crescita complessiva di quello che facciamo, di quello che compiamo nel corso della nostra vita e quindi di quello che leggiamo. Dunque, stasera cominciamo col raccontarvi la manifestazione, anche ringraziando naturalmente come sempre vedete scorrere dietro di noi, chi ci consente di realizzarla, quindi una banca, gruppo BPM che ci consente tra l'altro di portare come sempre ormai da qualche anno strane coppie da Napoli a Roma a Milano, ma anche un nuovo amico della manifestazione, Fondazione Culture e Arti, che tra l'altro quest'anno ci consente di avere una grande novità che dopo ripresenteremo e come vedete si sta già animando alla nostra sinistra, cioè la possibilità di tradurre in lingua dei segni italiana, in l'IS, appunto l'intera manifestazione, tutti e tre gli incontri napoletani e poi anche l'incontro romano. E quindi veniamo ai nostri ospiti. Comincio col presentarvi e vi chiedo un applauso per Giuseppe Montesano. Non dovrei presentare Giuseppe Montesano al pubblico napoletano che lo conosce molto bene, ma insomma nel corpo di Napoli a capofitto di questa vita menzognera, Magic People, sono soltanto alcuni dei titoli che abbiamo tutti quanti amato, che hanno avuto come dire straordinaria fortuna, i grandi premi dallo strega al campiello rappresentano solo in minima parte l'importanza, la fortuna che noi abbiamo di avere uno dei maggiori autori europei accanto a noi che ospite amico della manifestazione da sempre, la inaugura ormai da tanti anni, non si può cominciare strane coppie senza Giuseppe Montesano e che tra l'altro come dire ha all'interno della sua produzione un libro straordinariamente importante che è Lettori selvaggi che contiene nel sottotitolo il sottotitolo recita per l'esattezza dai misteriosi artisti della preistoria a Saffo a Beethoven a Borges la vita vera e altrove uno dei due protagonisti dell'incontro di stasera perché il nostro incontro è tutto dedicato a Borges e a Stevenson. Tra l'altro possiamo forse già questo dirlo, annunciarlo a breve nel corso dell'anno, all'inizio dell'anno prossimo sarà in uscita I fiori del male in una nuova traduzione, quindi una nuova avventura bodleriana che segue un celebre libro di Giuseppe Montesano, il ribelle in guanti rosa. E vi chiedo poi un applauso per Sergio Garufi, per la prima volta a strane coppie e speriamo come dire di inaugurare una lunga collaborazione. Sergio Garufi è una delle firme più autorevoli del foglio, ma insomma sono tante importanti le partecipazioni giornalistiche, la Sicilia, Liberazione, l'Unità, Diario e alcuni titoli che trovate, tra l'altro con l'occasione vi ricordo la gentile esposizione fornita da Mux dei libri dei nostri autori e dei nostri classici, Il nome giusto e Il superlativo di amare, due romanzi usciti per Ponte alle Grazie e poi Lui sa perché, Fenomenologia dei ringraziamenti letterari, un libro tra l'altro divertentissimo che ha molto a che vedere in qualche modo col tema di stasera, apocrifi, ragionamenti intorno ai testi, testi che parlano di testi, insomma raccontare anche le soglie del racconto letterario probabilmente sarà un tema fortemente borghesiano e che ci farà anche l'onore di raccontarci un ricordo, alcuni ricordi personali legati proprio alla vita di Borges. E poi veniamo, come dire, alla parte diciamo artistica della nostra manifestazione. Vi chiedo un applauso per Andrea Renzi. Tutto il pubblico napoletano in particolare lo conosce molto bene, Falso Movimento, Teatri Uniti è un pezzo fondante della storia del teatro della nostra città e d'Italia, tanto cinema, tante serie e in questi giorni tra l'altro avremo l'occasione di applaudirlo al Teatro San Nazaro con Giuseppe Patroni Griffi. Una tragedia reale va in scena da domani fino al giorno 9, fino a domenica. E le novità della rassegna, chi sta lavorando accanto a noi per la lingua dei segni italiana stanno traducendo per noi Annie Villani e Sara Visciano che ringraziamo e che vedrete alternarsi in questo ruolo e il coordinamento è di Stefania Cantelmo. E quindi cominciamo questo incontro con l'ultima presentazione, con una novità che ci sarà solo per questo incontro perché stasera è con noi Luca Signorini. A cui chiediamo di cominciare a prendere posto. Luca Signorini porta qui con noi la musica dal Teatro di San Carlo, il primo violoncello del Teatro di San Carlo, una prestigiosissima carriera che tra l'altro ha fatto incrociare la musica che come vedete è una novità assoluta di strane coppie per questo incontro nei prossimi anni, speriamo di consolidarla, ma anche una passione per la scrittura. Ci sono ormai diversi libri a firma di Luca Signorini, l'ultimo è il discorso delle mele, uscito per l'erudita, ma insomma il violoncello è come dire per lui frutto e materia di una lunga produzione, suona per l'orchestra di Santa Cecilia, la Scarlatti di Napoli, il maggio musicale fiorentino, appunto il San Carlo diretto da grandissimi, ha inciso tantissima, tantissima parte del suo repertorio e tra l'altro insegna il violoncello, il suo strumento in questo momento anche al Conservatorio di Benevento. A lui, come dire, lasceremo alcuni spazi di suono e con lui cominciamo, iniziamo quindi, Strane Coppie 2020. Allora grazie Antonella, grazie per avermi invitato, sono onoratissimo, sono emozionatissimo e mi è stato chiesto di dire due parole sui brani che vado ad eseguire e in questa prima serie di brani vi saranno una preludio in re minore di Johann Sebastian Bach e un langsam da una sonata per cielo solo di Paul Hindemith. I due compositori hanno delle affinità, ci sono delle rispondenze, insomma Hindemith si è ispirato molto alla musica di Bach e su Bach vorrei, ho cercato qualche qualcosa di interessante e vorrei citare proprio Giuseppe Montesano, se me lo permette, perché è molto bello ciò che scrive quando parla delle suite prevenoncello solo di Bach. Arabesco e trans di uno sciamano da salotto che danzando muore e rinasce, logica implacabile che fiorisce nel melos e con gli astri che si fanno carne illuminata dall'inimitabile eros bacchiano. Complimenti a Giuseppe perché è già ancora una frase interessante di Godofsky, cioè che a proposito di Bach dice delle suite prevenoncello, dice si percepisce un colosso in catene, un gigante che tenta di adattare i suoi poteri ai limiti del suo mezzo di espressione, in effetti questo strumento era nuovo all'epoca, era uno strumento che non aveva una sua letteratura e soprattutto è uno strumento che non è polifonico e Bach, che è il maestro della polifonia, riesce a far diventare il violoncello uno strumento polifonico, con una polifonia nascosta, ma quanto mai presente. E poi Langsam di Hindemith, e Hindemith nella sua fase espressionista c'è un'opera importante che fu giudicata blasfema, oscena, che è del 1922, lo stesso anno in cui fu composta questa sonata per il violoncello solo, e quelle tinte che ora non vi sto a raccontare perché l'opera è semplice e complessa al tempo stesso, si possono ritrovare in questo tipo di musica che vado ad eseguire. Grazie. 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 Grazie a tutti 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 Una strada Grazie a tutti 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 E a tutti Grazie 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti